Non c'è più patate, citrioli, non c'è più niente, vedi a nascere. C'è il divano, ti metto a sede. Va a casa del lì. Lì non trovi niente, c'è tripa per gatti. Lì è buono, non ci abitano. Vai. Va giù, va, basta. Piane, 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 piane. Peppe, ne fa cucire, Peppe, ne fa cucire. Io me lo porterei a casa. Ora se passa davanti al cane tuo, va. Eh, ma va bene, il cane sta dentro, però chi fa? Oh, ti ha messo paura. Ecco. Ancina, c'è due e mezza. Sanziato. Quanto tempo? E' ora di andarsene. Ma vada quell'altro, vede che non gli è da niente. Guarda che mi è andato qui. A te saluto, dice, ma avete abbandonato da sola. Chi è qui? Dice, ma avete abbandonato da sola, c'ho paura. Ma cosa lo portano? Se lo portano via, perfetto. No, se deve riandare a casa sua. Senti, Tocco. Senti il cane tuo. Senti il cane tuo. Ma te ne corna. Occhio, perché quello che da la busta c'è. Ci sta pure il piede. Pietro che deve passare? Questa la busta. Questa la busta. Conosce la busta? Pietro deve passare. Aspetta la macchina.